Il tema della sicurezza continua ad essere al centro dell'attenzione. Poligione ha definito gravissime e inaccettabili le dichiarazioni del sindaco Seri dopo la pubblicazione delle immagini sull'accoltellamento. Quali sono le sue richieste? Certamente è un'insinuazione di cui sono venuto a conoscenza sulla stampa, lo ritengo gravissimo e per questo sono qui e intendo intervenire perché i cosiddetti inquirenti, perché si chiamano inquirenti, che svolgono le indagini, sono ufficiali coadiuvati dagli agenti di polizia giudiziaria. E' gente che è molto preparata professionalmente e quindi non ritengo giusto che sulla stampa pubblicamente un sindaco faccia certe insinuazioni, che l'immagine o il video fosse stato dato proprio dagli inquirenti a qualcuno per essere pubblicato su Facebook. È una dichiarazione gravissima, tra l'altro senza uno straccio di prova, per cui invito il sindaco a fare pubbliche scuse alle forze di polizia su queste dichiarazioni veramente offensive e assurde. Qual è la sua opinione rispetto a questi episodi di criminalità? Ma io ho detto più volte tante cose, sono sempre intervenuto con competenza perché è una mia competenza, ho fatto diverse proposte inascoltate. L'ultimo episodio che è accaduto in centro sabato scorso è emerso un dato che noi comunque avevamo già, i cui rischi li avevamo già denunciati da tempo. Si è parlato di regolamento di conti e questo è un aspetto che merita una grande riflessione, anche da parte dell'amministrazione comunale, di un sindaco che è responsabile della sicurezza, perché questo vuol dire che presenze a Fano che hanno occupato varie zone della città che ormai conosciamo, dal Pincio alla Rocca Malatestiana, dove ci sono già stati fatti che hanno dato pensiero, vuol dire che si sono formate delle piccole bande che si contengono i territori. E questo è un altro aspetto della sicurezza veramente, che merita una grande riflessione, è un grande impegno da parte dell'amministrazione che verrà, noi saremo molto attenti alla sicurezza, io sarò molto attento alla sicurezza, con fatti, con concretezza, dobbiamo iniziare, non si può esultare quando si concludono le indagini positivamente, ringrazio le forze dell'ordine per il lavoro che fanno, ma è un fatto già successo. Noi a Fano nel futuro dobbiamo cominciare ad organizzare la sicurezza parlando di prevenzione e proprio su questo tema l'amministrazione deve collaborare con le forze dell'ordine per far sì che Fano sia più sicura e più tranquilla, perché quello che sta accadendo e quello che è accaduto sabato non rispecchia quello che è questa città, che è la città dei bambini, la città del carnevale, la città del turismo, una città che non era abituata a queste situazioni, quindi queste situazioni vanno affrontate per far sì che certi fatti non accadano più.